Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a questo appuntamento con Portafogli ETF. Oggi operatività per lunedì 22 settembre, quindi nuova settimana, sulla base della chiusura odierna di venerdì. Portafogli ETF analisi mercati finanziari con indicatori Aikinashi. Tre indici e tre materie prime che seguiamo giornalmente con 12 ETF, 6 in versione long e 6 in versione short, fornendo quindi indicazioni operative immediatamente implementabili su borsa italiana. Queste le candele Aikinashi, questi gli strumenti che utilizziamo, tra gli altri disponibili su borsa italiana, per seguire questi sottostanti nella versione a rialzo che in quella ribasso, quelli indicati nei box sono quelli che tra breve andremo a seguire nelle analisi grafiche giornaliere. Cosa è successo oggi? Una giornata direi particolare perché era partita molto bene sulla scia della notizia del giorno, che era quella della vittoria in Scozia degli unionisti, quindi vittoria del no, e questo avrebbe dovuto dare un enorme slancio ai mercati, così in effetti è avvenuto in apertura, quando i mercati europei in particolare hanno aperto più o meno con incrementi dell'ordine dell'1%, per poi rimangiarsi gran parte del guadagno, anzi tutto il guadagno, e chiudere addirittura il negativo, perlomeno per quanto riguarda l'Italia. L'Italia che chiude a meno 0,74%, tiene un po' meglio la Germania, ma chiude sostanzialmente sulla parità, e in questo momento lo stand del PUR sta anch'esso sulla parità, ma in un trend di breve decisamente negativo. È vero anche che era una giornata di scadenza tecnica, e questo qua generalmente spesso comporta anche dei valori, dei grafici giornalieri un po' anomali, però sicuramente oggi il segnale non è dei più positivi per quanto riguarda il breve periodo. Materie prime sempre a ribasso, per cui continua il trend decisamente negativo, andiamo subito quindi a vedere che cosa è successo sulle nostre candele. Partiamo dal nostro paese, dall'indice italiano, e vedete oggi produce sì una candela verde, ma una candela verde a mio avviso abbastanza preoccupante da questi livelli, dopo una sola candela verde senza code, quella di ieri, e vi ho cerchiato questo pattern perché a mio avviso ci potrebbero essere delle analogie con un pattern piuttosto simile dal punto di vista grafico, che è quello che si è verificato, che si è andato formando in diverse giornate, proprio sui massimi di giugno, quando l'indice aveva raggiunto i 22.500 punti. I grafici ovviamente, i prezzi si muovono in continuazione, non sappiamo da che parte andranno lunedì prossimo, però certo un segnale rosso, come in questo caso, sarebbe un'ulteriore conferma che siamo probabilmente in un'area pericolosa e che potrebbe vedere il nostro indice andare giù nelle prossime giornate. Per il momento la candela è ancora verde, per cui non anticipiamo naturalmente l'operatività, rimaniamo su questo trend a rialzo, ma quantomeno il mio suggerimento a questo punto, con questo trend di quest'oggi, è di mantenere lo short che abbiamo dall'altra parte, quindi pensiamo fosse solo per un giorno mantenere questa tattica, se volete di spread trading, quindi long sul mercato italiano, short su quello americano, la teniamo un altro giorno, perché i segnali che ci stanno arrivando sono piuttosto poco chiari. Quindi rimaniamo long sul mercato italiano, non entriamo, non prendiamo in considerazione per il momento il mercato tedesco, andiamo a vederlo per dovere di cronaca, ecco qui manca probabilmente una candela, riscarichiamo il grafico, sono da poco chiusi i mercati, per cui diamo tempo al sistema di aggiornare. ETF e XS1, ecco qua, fa una candela verde un po' più decisa, ma diciamo che i prezzi di chiusura sono simili a quelli della chiusura precedente, e ci stiamo comunque avvicinando verso quest'area di resistenza che avevamo precedentemente indicato. Per cui non entriamo sul DAX, lasciamo il long sull'Italia, e lo standard pur, vedete, fa un'altra candela verde, e il nostro inverso, dove siamo per il momento investiti, fa una candela rossa, una seconda candela rossa, ma vedete la variazione è come quella di ieri, meno 0,1%, perché di fatti i prezzi in chiusura di giornata sono andati proprio a chiudere allo stesso livello della chiusura di ieri, quindi c'è stato un rimbalzo durante la giornata. Per cui anche a fronte di queste piccolissime variazioni, direi che può valere la pena per un'altra giornata almeno lasciare questa operatività mista e aspettare ulteriori indicazioni. Passerei alle materie prime, poco desegnare sul gold, che fa un'altra candela rossa, qua anche le variazioni sono molto piccole, per cui c'è anche spazio per chi è short di rimanerci, un probabile target in area 11,67, 11,50, per cui non siamo molto lontani, siamo a 11,88 con i prezzi di chiusura di oggi. Per il momento siamo fuori e rimaniamo in osservazione. Usciamo invece dal crude oil, che dalla resistenza fa una prima candela rossa senza code, per cui per il momento i prezzi vengono respinti da questa resistenza dinamica che avevamo indicato. Attualmente la posizione vale meno 1,2%, quindi come al solito gli stop si possono prendere, ma sono generalmente molto piccoli, molto contenuti. Naturalmente il vero stop lo registreremo e vedremo quale sarà l'entità con l'apertura di lunedì mattina. Per cui usciamo dal crude oil e invece proviamo a seguire al ribasso il natural gas. Questo è il natural gas a rialzo, che vedete fa anche in questo caso una candela rossa senza code in prossimità di quest'area resistenziale, con RSI ancora abbastanza lontano dall'ipervenduto, per cui su questo strumento, a mio avviso, può valere la pena tentare un'entrata in short. Ecco subito lo strumento, andiamo subito a vederlo, short natural gas, eccolo qua, che vedete fa infatti una candela verde senza code che possiamo provare a sfruttare. Qua abbiamo già preso una grande gamba di rialzo, poi c'è stata una lunga stabilizzazione su questi livelli, in area 175-180. Ora i prezzi sembrano rompere gli induci, per cui c'è possibilità quantomeno di rivedere area 190, una prima area di resistenza, e chissà che non si arrivi anche a vedere area 200, che è il prossimo livello di resistenza decisamente più forte. Anche in questo caso, vedete, l'RSI sta in area neutra, per cui c'è spazio per eventualmente andare a rialzo se i prezzi dovessero prendere questa direzione. Bene, anche per oggi è tutto, quindi il riepilogo oggi è un po' più complesso, lo vediamo subito. Manteniamo questo approccio cauto, neutrale, se volete, sui mercati azionari, con un long e con uno short, in contemporanea, in attesa di chiederci un po' meglio le idee. Chiudiamo la posizione in long e sul petrolio, e ne apriamo contemporaneamente una in short sul natural gas, per cui avremo da lunedì tre posizioni aperte sul nostro portafoglio ETF. Ricordo la possibilità di abbonarsi, domenica verrà inviata una nuova newsletter con indicazioni operative di acquisto, vendita di ETF, frutto di un'analisi su un parco di strumenti molto molto ampio, che compiende gran parte degli indici mondiali e gran parte anche delle singole materie prime, nonché vari strumenti obbligazionali, quindi un abbonamento e un tipo di operatività particolarmente adatta per operazioni di medio e lungo periodo e per portafogli un po' più, diciamo, complessi. Registrazione gratuita sul sito comunque per ricevere analisi tecnica senza naturalmente le indicazioni operative, tutte le informazioni su Trend Online all'interno dei servizi premium o navigando all'interno di onehourtrading.it i miei contatti Skype e mail per qualunque approfondimento durante gli orari di apertura della Borsa Italiana. Vi ringrazio anche oggi per l'attenzione, vi auguro naturalmente un buon fin di settimana e a presto per una nuova puntata di questa videoanalisi. Buona serata! Buona serata! Buona serata! Buona serata! Grazie!